salve a tutti amici youtube benvenuti e bentornati sul mio canale oggi primo di aprile nessuno scherzo nessun pesce d'aprile non è ovviamente il periodo ma vi parlo di un aspetto che riguarda la tecnologia di questa emergenza che stiamo vivendo tutti quanti ora sappiamo che da oggi primo di aprile era possibile inviare le richieste di indennizzo economico di 600 euro all'inps per lavoratori autonomi possesso di partita iva ma anche alcune categorie di lavoratori a partire dal primo di aprile ebbene è stata una debacle d'accordo un caos totale già a partire da mezzanotte un minuto il sito dell'inps è stato preso d'assalto d'assalto per effettuare la richiesta di questo indennizzo ora per buona parte della notte era o impossibile accedere o c'erano problemi di connessione problemi di autenticazione problemi a caricare la pagina questa mattina intorno alle 7 7 e mezzo del mattino si riusciva ad accedere al sito dell'inps e a effettuare la richiesta quindi sembrava tutto quanto rientrato nella normalità se non fosse che intorno alle 11 e mezza del mattino è andato in crash il sito già erano stati segnalati dei problemi e questi problemi erano inerenti al fatto che un po di utenti una volta autenticati venivano rimandati in un'area riservata del portale dell'inps di un'altra persona e poi successivamente è andato totalmente in crash il sito oltre al traffico molto ingente sul sito si è riscontrato anche un attacco hacker al sito dell'inps quindi c'è stato un sovraccarico oltre anche a una violazione da parte di criminali informatici del sito della violazione del sito dell'inps molti richiedenti hanno probabilmente intasato il sito dell'inps perché probabilmente hanno percepito che prima si faceva la richiesta e meglio andava forse hanno interpretato come primo di aprile un click day che cos'è il click day e quando viene data l'opportunità per registrarsi ad esempio a un servizio oppure accedere a determinati servizi di dovessi registrare dove effettuare la registrazione online a un sito in un solo giorno in un giorno specifico e in una determinata fascia oraria questo ha mandato in tilt il sito dell'inps e adesso è in manutenzione e da alcune dichiarazioni del presidente dell'inps si evince che si sta studiando di dare un doppio accesso ovvero un accesso da una certa fascia oraria ai caffa i patronati per la presentazione delle domande e in un'altra fascia ai cittadini che lo vogliono fare autonomamente c'è da dire che l'inps ha semplificato quelle che sono le procedure di autenticazione normalmente la registrazione all'inps prevede al sito dell'inps prevede l'invio di un pin composto da due parti uno che viene inviato via os in sms o via email dipende il sistema la sceglie random tra i dati che si inseriscono al momento della registrazione l'altra metà viene inviata via posta al domicilio alla residenza della persona che ne fa richiesta ora l'inps ha dichiarato che per semplificare il tutto basterà nel momento della registrazione inserire solamente la parte del pin che viene comunicata via sms o tramite mail oppure per avere un livello di sicurezza più elevato per l'accesso fate come ho effettuato io ovvero quello che è l'accesso con l'identità digitale lo speed io l'ho fatto attraverso poste italiane non mi è costato nulla o una autenticazione di secondo livello e in pratica ci è voluto poco basta documento di riconoscimento inserire tutti quanti i dati si invia tutta quanta la documentazione smaterializzata in digitale attraverso l'app di poste italiane dedicato a questo e in 24 ore avviene l'autenticazione e quindi l'abilitazione all'identità digitale di secondo livello questo per quanto riguarda il sito dell'inps passiamo invece a quello che sono i buoni spesa i buoni spesa sono una misura che ogni comune dal più piccolo al più grande una misura di contenimento economica chiamiamola così che prevede l'erogazione di buoni spesa a chi ne ha bisogno per effettuare la la spesa alimentare e di generi di prima necessità ora per quanto riguarda me il comune di roma ha deciso di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte quante le informazioni quindi c'è un modulo da scaricare da compilare firmare rinviare con un documento di riconoscimento a la municipalità a cui si appartiene per residenza ancora non è chiaro il tipo di erogazione di questo buono spesa se sarà dematerializzato quindi sarà una card con un credito prepagato come i ticket restaurant smaterializzati oppure delle sorti di ticket restaurant quelli cartacei ancora non è chiaro bisogna compilare la domanda e inviarla al alla circoscrizione municipalità si chiama oggi di competenza questo per quanto riguarda il comune di roma d'accordo non è tanto difficile capire che come procedura sarà lo stesso da altri comuni altrettanto grandi a quelli più piccoli ovviamente i comuni più piccoli non avendo circoscrizioni municipalità facciamo per esempio dove abita mia madre mercogliano provincia di avellino là ci sarà un solo ufficio preposto e non i tanti uffici delle municipalità c'è però da dire che la lista degli indirizzi mail a cui inviare richiesta questa mattina queste le informazioni sono state pubblicate ieri questa mattina gli indirizzi erano errati solamente in serata è stata rivista la lista degli indirizzi mail delle municipalità e quindi è rientrata la situazione perché provando a inviare la domanda agli indirizzi mail della prima versione pubblicata la mail tornava indietro con la dicitura indirizzi mail sconosciuto sul sito del comune di roma è anche disponibile una lista che sono tutti quanti i negozi le attività commerciali che accettano questa tipologia di buoni spesa ora devo fare una piccola osservazione a chi ha elaborato questa lista purtroppo non è in ordine di municipalità è neanche di cap d'accordo o di strade è una estapolazione di una di un file in excel trasportato in pdf dove però è tutto quanto a caso quindi ho piccola notazione per le tante persone soprattutto anziane o poteva essere fatto in ordine di cap quindi se una persona abita nel cap 00130 o 00171 si poteva andare a cercare tutti quanti gli esercenti di quel cap invece adesso bisogna andarli a cercare sparpagliati oppure poteva essere pubblicato sui microsite sui micrositi delle varie municipalità quelli che erano gli esercizi commerciali di quella municipalità che accettano i buoni spesa ancora non è chiaro come ho detto l'erogazione di questi buoni spesa che vanno a fasce per quanto riguarda il comune di Roma il comune di Roma che è il comune che beneficia del maggior volume economico a disposizione e il comune di Roma ha stabilito tre fasce ovvero per nuclei familiari fino a due persone un contributo fino a 300 euro da 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 tre a quattro persone un contributo economico buono spesa fino a 400 euro e da cinque persone in poi un contributo economico fino a 500 euro per i buoni spesa staremo a vedere le modalità di erogazione nel senso che chi deve distribuire cosa saranno volontari saranno i i vigili urbani la polizia municipale probabilmente quest'ultimo volontari polizia municipale perché nel modulo viene richiesto qual è il cognome che c'è sul citofono e l'interno dell'abitazione quindi ho una consegna a mano è presumibile oppure che venga lasciato nella cassetta della posta la cosa ottimale dal mio punto di vista da persona che comunque pratica l'informatica sarebbe la creazione di un'app o la collaborazione con un'app per la quale si crea un borsellino elettronico e presentare l'app al momento del pagamento con un codice a barre univoco che collega quel borsellino elettronico alla persona che ne ha fatto richiesta sarebbe proprio il non plus ultra della soluzione perché eviterebbe quello che è il contatto diretto quindi la regola del distanziamento sociale non si esporrebbe né chi riceve né chi consegna quindi le forze e l'ordine volontari ha possibilità di contagi d'accordo perché poi dobbiamo pensare alle persone che consegnano tutti quanti questi buoni quanti contatti devono avere e soprattutto una dematerializzazione scusate anche se inceppico sto facendo questo video molto a braccio nel senso che non c'ho nulla di particolarmente preparato facendo in questo modo si sarebbe potuto eliminare tanta carta tanta burocrazia e sarebbe stato anche molto veloce nell'erogazione perché una volta a disposizione i fondi basta trasferirli da una parte a un'altra invece l'approvvigionamento o in maniera cartacea o in maniera con una card da caricare e distribuire comunque anche quello è un problema oppure una soluzione che potrebbe essere una soluzione ibrida capisco che l'app sarebbe alquanto complicato da mettere su in pochi giorni ma indicare un IBAN per un bonifico e quindi bonificare da parte del comune delle municipalità l'equivalente dei buoni sotto forma di punto contributo economico 3, 4, 500 euro però là poi dobbiamo valutare che c'è un altro aspetto che è quello di non andare incontro a quelli che sono i classici furbetti ovvero mi hai fatto un bonifico di 300 euro dico 500 euro e adesso lo utilizzo in maniera indiscriminata assolutamente no quindi benvenga il buono spesa perché il buono spesa può essere utilizzato solamente ed esclusivamente per la spesa lo so perché avendo utilizzato nella mia vita i buoni spesa i ticket restaurant giusto per capirci so la dinamica come funziona io vi ringrazio per aver visto questo video dove ho parlato di questa situazione probabilmente in altri comuni le procedure cambieranno ma come ho detto di poco perché comunque è una procedura che storto morto dovranno adottare tutti quanti per la richiesta del buono spesa per quanto riguarda l'INPS io sono riuscito a inviare la domanda e ho ricevuto anche la ricevuta di invio della domanda speriamo in una gestione non solo trasparente celere e soprattutto che il sistema informatico in merito regga perché da quello che è stato dichiarato si è arrivati a una mole di domande inviate arrivando al picco di 100 domande al secondo sì avete capito bene in un secondo il sito dell'INPS ha ricevuto fino a 100 domande al secondo fate voi i calcoli 100 domande al secondo per 60 secondi cioè un minuto per un'ora guardate quanto è arrivato speriamo che vada tutto quanto bene io sono fiducioso andrà tutto bene io resto a casa distanti ma vicini e vi ricordo una cosa che sto ricordando in tutti quanti i video che io sto realizzando in questo periodo mi raccomando se avete la possibilità donate 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 qualcosa alla protezione civile per aiutare la protezione civile nell'acquisto di presidi medico sanitari per affrontare questa situazione proprio oggi nella conferenza stampa giornaliera della protezione civile è stato fatto un micro punto su quello che è stata fino a oggi la beneficenza di italiani e fino ad oggi sono stati raccolti circa 90 milioni di euro che la protezione civile sta utilizzando per l'acquisto di mascherine per l'acquisto di guanti, per l'acquisto di tamponi, per l'acquisto di tute per l'acquisto di tutto quello che serve per affrontare questa emergenza e sul sito della protezione civile trovate in trasparenza l'utilizzo di tutti questi soldi quindi sfatiamo anche quello che è il preconcetto di alcune persone che dicono io non dono perché praticamente non faccio beneficenza non voglio dare soldi perché poi dove vanno a finire questi soldi la protezione civile è particolarmente trasparente e sul sito è rendi contato tutto quanto quello che viene speso quindi state sereni donate, donate 5-10 euro quello che potete, se volete d'accordo? potete anche donare con sms solidale dove gli operatori telefonici non applicano nessun costo non si prendono nessuna tassa o altro quindi potete donare anche 2 euro non c'è scusante donate, donate, donate io vi ringrazio per aver visto questo video e soprattutto condividetelo se pensate possa essere utile come informazioni in merito a questo tipo di situazione ovvero dei buoni spesa e dell'accesso al sito dell'Inps per richiedere l'indennizzo economico dei famosi 600 euro io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video andrà tutto bene? io resto a casa